Al quarantesimo eravamo a metà classifica, al quarantatresimo erotti sopra di nuovo. Cosa è successo al di là di questo proprio scivolone iniziale nella ripresa che però mi ha dato un po' in tilt in parte dei tuoi difensori? Cosa è successo? È successo che è venuta fuori la forza di questa squadra. Ora vi ho sempre detto che questa squadra a livello dei giocatori non è la squadra, anche se per me è la squadra più forte, ma a livello di gruppo gli ho detto ai ragazzi, noi siamo il gruppo più forte. E un po' ci rispecchiamo ai nostri tifosi, perché i nostri tifosi sono come la nostra squadra. Nel senso, non mi hanno mai mollato, anche in momenti di difficoltà ci sono sempre. E oggi abbiamo visto che spettacolo era il Mokagata. E oggi vi ho fatto vedere che anche noi abbiamo lo stesso spirito dei nostri tifosi. Rizzi è un giocatore che tu hai già in Coppa 9. Questo è un giocatore che ho fortemente voluto e che può cambiare le partite oggi. Insomma, il grande protagonista è lui, insieme agli altri, però lui rigore e poi il gol. Allora, lui, l'avevo sempre detto, ne abbiamo già parlato di questa cosa, lui è classico il 9 da averne riguardo. Quello che ha la mezza occasione e finalizza. Come ho detto, lui deve crescere in certi aspetti, perché sono situazioni che lui non ha mai vissuto, come ho già detto nel primo anno che ha fatto promozione. Però, se continua così, è un giocatore importantissimo, un giocatore che le altre squadre non hanno. E niente, oggi l'ho dimostrato ancora più delle altre volte. Aspetti... Aspetti...